9 marzo 2020 10 marzo, 11 marzo, 12 marzo, 13 marzo Mi piace fare lunghi passeggiati a riva al mare Andare a guardare il tramonto sugli scogli al porto E ascoltare tanta musica diversa 10 marzo 5 maggio 2020, proroga Quando guido la mia macchina e sono da sola Mi piace abbassare il finestrino, mettere il braccio fuori E poi ascoltare una bella canzone e cantarla a squarciagola Come se non ci fosse nessuno che mi guarda E poi mi piace andare a mano, mi piace fare l'aria aperta Sedermi su uno scoglio E poi mi piace abbassare il braccio fuori 3 giugno 2020 7 giugno 2020 10 giugno 2020 11 giugno 12 giugno 13 giugno 14 giugno 15 giugno 16 giugno 17 giugno 18 giugno 19 giugno 20 giugno 21 giugno 22 giugno 23 giugno 24 giugno 25 giugno, 26 giugno, 27 giugno, 28 giugno, 29 giugno, 30 giugno, sei del pomeriggio! A presto, a presto, a presto! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.